La stagione 2019 di FX Action parte da Rosolina Mare in provincia di Rovigo dove il 17 febbraio si è corsa la prima prova degli internazionali d'Italia Super Mare Cross. Passiamo quindi con le immagini di gara alla MX2, la categoria di Tropepe. Matteo Delcoco in gara 1 sfrutta i cavalli della 250 a due tempi e prende il comando alla prima curva, ma viene subito superato da Joachim Furbetta e appunto Giuseppe Tropepe. Furbetta e Tropepe fanno gara a sé, vanno in fuga, allungano sul resto del gruppo. Il pilota romano dell'Hosquan resiste a lungo al forcing di Tropepe. Entrambi commettono tra l'altro dei piccoli errori e quindi le distanze si assottigliano o si allungano col passare dei giri. Nella fase finale però Tropepe trova un varco e passa in testa, cercando quindi di individuare lui la fuga vincente. In realtà Furbetta tiene bene il passo e continua a stare le calcagna di Tropepe. Gara molto meno vivace per Delcoco, tranquillo al terzo posto per tutta la manche. Furbetta all'ultimo giro tenta il tutto per tutto, ma non riesce a strappare la vittoria a Tropepe che taglia il traguardo con pochi metri di vantaggio. Partenza della seconda manche, Matteo Delcoco di nuovo fa grande all shot con la sua a due tempi, ma Tropepe impiega poco tempo per riportarsi sul fuggitivo e passare al comando. Ancora una volta però c'è Joachim Furbetta che prova a rovinare la festa del pilota calabrese strappandogli il primato. Tropepe però oggi è veramente scatenato, ha una gran voglia di vincere e di dimostrare di essere ancora quello dell'anno scorso, torna in testa, allunga e va a vincere con buon margine su Furbetta e Delcoco. Ma prima di vedere il podio della MX2 che si determina con la super campione, passiamo all'MX1. Il campione in carica Giovanni Bertuccelli prova a mettere subito le cose in chiaro e parte in testa. Dietro di lui ci sono Lentini e Paganini. Bertuccelli sembra avere la situazione in pugno ma Filippo Zonta comincia ad avvicinarsi sempre più, fino a quando Bertuccelli non accusa un chiaro indurimento delle braccia e deve lasciare via libera al pilota Veneto, idolo di casa. Bertuccelli è in crisi nera e nel finale viene superato anche da Paganini, e chiuderà quindi al terzo posto. Grande vittoria quindi per Filippo Zonta che quest'anno è al debutto in MX1 con la Honda del Team Martin. Scatta la seconda manche e ancora come nella prima a fare la parte dei Leoni sono i tre protagonisti appunto di gara 1, Zonta, Bertuccelli e Paganini che si contendono le prime tre posizioni. Zonta prova la fuga ma stavolta Bertuccelli sembra molto più pimpante e non demorde dall'inseguimento, nonostante questo rischio clamoroso che prende nella fase iniziale del tracciato di Rosolina. In terza posizione Paganini deve lottare con Alessandro Lentini, ma riesce a superarlo nel finale e quindi va a prendersi la terza posizione di Munch. Proprio nel finale Zonta accusa forse un momento di rilassamento, Bertuccelli lo affianca e sembra sul punto di riuscire a superarlo. Zonta però riordina le idee, riapre il gas e riesce a resistere davanti fino alla fine. Qualche momento di pausa e poi la super campione con i 12 migliori piloti di MX1 e MX2 insieme, nello stesso cancelletto. La partenza ovviamente avvantaggia le potenti 4,50 e sono di nuovo Filippo Zonta, Giovanni Bertuccelli e Marco Paganini a prendere le prime tre posizioni, con i piloti della MX2 migliori subito alle loro spalle. Al termine del primo giro in testa c'è Zonta, ma alle sue spalle arriva già Furbetta che ha superato Paganini e Bertuccelli con Tropepe Quinto. Tropepe dal canto suo si fa largo bene fino alla seconda posizione, passa un paio di giri per tirare il fiato portandosi dietro Furbetta e poi sferra l'attacco decisivo che gli vale la prima posizione. Anche Furbetta si fa sotto a Zonta che quindi deve chiudere in difesa la manche e non riesce a tenere la seconda posizione. Al traguardo Tropepe festeggia la sua tripletta vincente davanti a Furbetta e a Zonta, ordine d'arrivo quindi della super campione. Il podio dell'MX1 dice Zonta, Bertuccelli e Paganini, il podio della 302 tempi dice Cavallaro, Tosarelli, Curti, il podio dell'MX2, Tropepe, Furbetta e Del Coco. Il centro balneare della Polizia di Stato di Maccarese sul litorale di Roma ospita domenica 24 febbraio la seconda prova del Super Marecross 2019. Via alle immagini di gara con la MX1. Prima manche e parte in testa Salvatore Runcio, uno specialista delle partenze, mentre Lentini rimane incastrato in un mucchio e riparte ultimo. Runcio conduce davanti a Bertuccelli e Di Marzi Antonio, pilota di casa che sulla sabbia si disimpegna sempre molto bene. Ma Bertuccelli rompe gli indugi, supera Runcio e va in fuga al comando. Anche Di Marzi Antonio mette pressione al pilota della Yamaha e riesce a conquistare la seconda posizione, quindi l'ordine è Bertuccelli, Di Marzi Antonio, Runcio. Al traguardo la bandiera a scacchi saluta la vittoria di Bertuccelli che era rimasto a digiuno domenica scorsa a Rosolina. Nella seconda manche è Bertuccelli, il campione in carica a fare all shot e sembra ripetersi la fuga della prima manche per il pilota di parti che però proprio all'ultimo tratto del primo giro cade, si impunta e lascia spazio a Di Marzi Antonio. Riparte secondo davanti a Runcio e a Lentini. Bertuccelli si fa prendere dalla fuga e commette un altro piccolo errore così Di Marzi Antonio riesce a resistere al comando per diversi giri ma nelle fasi finali Bertuccelli continua a martellare e va a riprendersi la prima posizione superando quindi Di Marzi Antonio comunque bravissimo. Al terzo posto, solitario e con molte meno emozioni c'è Lentini che controlla la posizione. All'arrivo è la seconda vittoria di giornata per Giovanni Bertuccelli che dimostra di essere tornato in perfetta forma davanti appunto a Di Marzi Antonio e Lentini. Parte quindi la MX2 e come a Rosolina ancora grande partenza per Matteo Delcoco con la 252 tempi che al termine del primo giro precede Mancuso, il campione in carica, Furbetta e Scuteri che fanno quartetto di testa da soli. Ma la leadership di Delcoco viene rilevata da Mancuso che però subito dopo al termine del secondo giro cade e arretra al terzo posto superato da Delcoco e Scuteri. Delcoco come detto torna al comando ma la sua leadership ancora una volta non dura a lungo. A superarlo stavolta è Emilio Scuteri che guida in maniera spettacolare e crea il vuoto alle sue spalle davanti a Delcoco. Il pilota del team Celestini Emilio Scuteri oggi in gara sulla località di casa domina senza particolari problemi davanti a Delcoco e Mancuso. Parte la seconda manche e c'è Scuteri davanti ma il pilota cade ed è costretto a ripartire dal fondo del gruppo. In testa così va Delcoco seguito da Mancuso. Scuteri però è una vera furia e supera tutti gli avversari con una rapidità impressionante. A due giri dalla fine raggiunge e supera anche Delcoco tornando quindi al comando come nella prima manche. Mancuso invece resta più staccato e molto più tranquillo al terzo posto. Al traguardo ecco la vittoria seconda di giornata per un grande Emilio Scuteri davanti a Delcoco e Mancuso. Parte la super campione e nel mucchio della partenza con oltre 20 piloti è Memoli con Bertuccelli a spuntare davanti mentre Di Marzio Antonio cade e riparte attardatissimo. Bertuccelli inizia la gara facendo da Lepre seguito da Scuteri. Al terzo posto invece c'è Joachim Furbetta in una manche finalmente libera da cadute e problemi di ogni tipo. Scuteri tallona Bertuccelli con grande insistenza per tutta la gara e all'ultimo giro sembra pronto a tentare l'attacco ma proprio mentre sembra destinato a superare commette un errore e così Bertuccelli può tagliare il traguardo da solo festeggiando la tripletta vincente. Podio della MX1 con appunto Bertuccelli, Di Marzio Antonio, Lentini, Runcio e Memoli. Podio della 300 con Cavallaro e Milani e podio della MX2 con Scuteri, Delcoco, Mancuso, Furbetta e Palanca. Il Super Marecross chiude il suo trittico di gare invernali a Gabicce Mare nelle Marche a due passi dalla Romagna. E la regina del motocross mondiale parte subito bene nella prima mancia al terzo posto dietro a Matteo Delcoco e Antonio Mancuso. Delcoco e Mancuso allungano al comando distanziando subito nettamente tutti gli inseguitori mentre Fontanesi scende al quarto posto superata da Gioele Palanca. Chiara dimostra comunque tutta la sua classe e la grande dimestichezza acquisita negli anni sulla sabbia. Delcoco prova a fuggire con Mancuso che invece tenta di riprenderlo ma il campione in carica della TM finisce a terra e rovina così il suo inseguimento. Delcoco quindi può correre indisturbato verso la vittoria. Il pilota pugliese è diventato tabella rossa dopo Maccarese e quindi taglia il traguardo davanti a Mancuso e Palanca. Nella seconda mancia sono ancora Delcoco e Mancuso protagonisti fin dalla partenza. I due mattatori della prima mancia lottano duramente per diversi giri guidando al limite delle loro capacità e spiorandosi in numerosi tratti della pista. Al terzo posto invece c'è Chiara Fontanesi che è partita davanti a Gioele Palanca e resiste agli attacchi del pilota dell'Oscuarna, campione uscente delle 125. Come nella prima mancia però Mancuso cade e perde secondi preziosi rovinando quindi il suo inseguimento a Delcoco. Palanca invece riesce ad avere ragione di Fontanesi per la terza piazza e il pilota di Pesaro vuole fare bella figura davanti al pubblico amico. Ancora un arrivo in solitaria per Matteo Delcoco, sempre più leader della MX2. Scatta la prima manche della MX1 e Giovanni Bertuccelli, dominatore a Maccarese, è subito in testa ma alla seconda curva cade coinvolgendo anche Runcio e riparte ultimissimo in fondo al gruppo. Al comando passa così Alessandro Lentini davanti al campano Borrozzino. Runcio e Bertuccelli recuperano in maniera molto efficace e a metà gara Borrozzino che cade è costretto a cedere la seconda posizione a Runcio che quindi è già risalito in piazza d'onore ma poco dopo lo stesso Runcio si viene superato da Bertuccelli che passa così in seconda posizione. A due giri dalla fine il campione incarica una vera furia, raggiunge e supera anche Lentini andando quindi a prendere il comando. Una rimonta fantastica quella del pilota di Pardi che conquista così la quarta vittoria di manche consecutiva dopo la tripletta di Maccarese. E dopo una simile prova di forza è difficile immaginare chi possa davvero impensierire Bertuccelli che infatti parte in testa nella seconda manche e scappa subito in fuga. Dietro di lui ci sono Lentini e Runcio quindi l'ordine è lo stesso del fine della prima manche. Lentini e Runcio danno vita a un bellissimo duello per la seconda posizione con il pilota laziale dell'Ausquarna che tenta tenacemente di chiudere tutte le porte al rivale siciliano della Yamaha. È molto meno emozionante invece la gara di Giovanni Bertuccelli che partito in testa ha creato subito un grandissimo margine di vantaggio sugli inseguitori e può andare a vincere in beata solitudine la seconda manche della MX1. Lentini e Runcio invece se le danno fino all'arrivo e arrivano in volata appunto con il ziale che precede il siciliano. Veniamo così alla super campione Bertuccelli parte ancora in testa con Del Coco che si infila bene all'interno davanti a Lentini. Bertuccelli è una furia comincia subito a guadagnare terreno con una facilità disarmante e a fine gara avrà doppiato fino al terzo. L'unico a pieni giri rimane Del Coco secondo. Chiara Fontanesi invece è costretta a ritiro per questa caduta in cui rimane incastrata sotto alla moto. Mancuso corre indisturbato al terzo posto ma anche lui subirà l'onta del doppiaggio da un Bertuccelli davvero strepitoso. Per il pilota della Honda ancora il primo gradino del podio davanti a Lentini e Runcio nella MX1. Nella classe 300 riservata alle moto a due tempi la vittoria è per il marchigiano Lamponi davanti a Cavallaro e Curti mentre nella MX2 vince Del Coco davanti a Mancuso e Gioele Palanca. Domenica 27 ottobre siamo nel cuore della Sicilia orientale a Lido di Naxos per un grande appuntamento. L'ultima tappa del Super Mare Cross campionati internazionali d'Italia su sabbia valevole anche per l'assegnazione del titolo tricolore appunto di questa stupenda specialità. Saliamo ancora di cilindrata arriviamo alla MX2 la classe che vede in testa alla classifica il numero 86 Matteo Del Coco tabella rossa pilota Salentino il campione uscente della categoria numero 310 Antonio Mancuso è secondo e avrebbe bisogno di un miracolo per rientrare in gara visto che Del Coco ha un vantaggio abbastanza rassicurante alla partenza proprio Del Coco della prima manche si porta al comando davanti a Palanca e Mancuso Del Coco prova la fuga nonostante questo bel rischio nella fase iniziale del tracciato al secondo posto il pilota di casa Manfredi Caruso mentre Palanca terzo cerca di tenere a bada Antonio Mancuso. Manfredi Caruso dicevamo pilota di casa del motoclub Taormina News catenato veramente questo siciliano si porta al ridosso di Matteo Del Coco riesce addirittura a superarlo davvero sorprendente l'azione di Caruso Del Coco probabilmente anche lui sorpreso dalla velocità di Caruso resta al secondo posto e osserva un po' la situazione Mancuso d'altronde è terzo e sembra aver perso abbastanza terreno sul duo di testa Manfredi Caruso resiste guardate che bello stile nelle curve come si butta con potenza con veemenza ma nel finale di gara accusa la fatica ed è costretto a cedere il passo a Del Coco che quindi se ne va mentre Caruso eccolo lo vediamo viene raggiunto da Antonio Mancuso che quindi tenta il forcing quantomeno per conquistare la piazza d'onore ma proprio mentre è all'attacco Mancuso subisce un colpo all'atterraggio da un salto e impiega almeno un giro per riprendere quantomeno una condizione fisica accettabile. Matteo Del Coco al traguardo vince e si laurea per la quarta volta prima volta in MX2 campione del Super Mare Cross. Partenza della seconda maschile numero 87 Blancato forza il cancelletto prima del via e per questo verrà squalificato ma i protagonisti sono comunque tutti davanti già alla prima curva. In testa Matteo Del Coco con la tabella numero uno celebrativa al secondo posto di nuovo Manfredi Caruso poi Antonio Mancuso Palanca, Ricca e Caspani. Questi sono i primi nelle primissime fasi di gara. Per Del Coco una gara a mente sgombra e il pilota pugliese riesce a giocare letteralmente con la moto sulla sabbia mentre Manfredi Caruso questa volta è al suo inseguimento ma non riesce a raggiungerlo. Un errore per Antonio Mancuso che perde così la terza posizione a vantaggio di Gioele Palanca ma il campione uscente d'orgoglio reagisce e si riporta sul marchigiano della Osquarna e va a prendersi perlomeno la terza posizione. Gara abbastanza monotona per Matteo Del Coco che conquista da subito un buon margine di vantaggio e se lo porta appresso per tutta la manche. Manfredi Caruso nel finale accusa anche un po' di stanchezza e il pilota siciliano ha corso anche la gara di regionale il giorno prima quindi chiaramente l'acido lattico sulle braccia e sulle gambe comincia a farsi sentire così Del Coco taglia il traguardo festeggiando la doppietta. Sul podio consegna la tabella di campione a Matteo Del Coco appunto che sale con Manfredi Caruso secondo e Antonio Mancuso terzo e festa con lo spumante per il neocampione. Ed eccoci alla classe regina la MX1 quella del numero 316 Giovanni Bertuccelli otto volte campione italiano tra motocross tradizionale e super marecross a caccia del nono titolo. Il tabella rossa del team Pardi prende subito il comando nella prima manche sembra difficile che qualcuno possa impensierirlo già dalle prove infatti Bertuccelli ha rifilato distacchi enormi a tutti gli avversari. L'unico che è ancora matematicamente in grado di contendergli il titolo è Alessandro Lentini eccolo qui numero 135 che però è alle spalle del 99 Alessio Panarello protagonista di un fantastico avvio di Manche. Bertuccelli fa il vuoto alle sue spalle con la sua Honda 450 mentre Lentini riesce ad avere la meglio di Panarello e conquista perlomeno la seconda posizione. Lo stesso pilota Reatino riconoscerà che più di quello effettivamente non può non può fare contro questo Bertuccelli. Panarello terzo con numero 99 grande prova per il pilota siciliano. Al quarto posto invece c'è il 76 Cavallaro. Per Bertuccelli la gara è un esercizio di stile poco più il numero 316 ha un vantaggio abissale su tutti gli avversari e giro dopo giro si riporta addirittura su Lentini eccolo qua a due giri dalla fine ha raggiunto il secondo in classifica lo sta per doppiare. L'impresa non riesce in questa match perlomeno e così Bertuccelli si accontenta di tagliare traguardo in impennata e conquistare matematicamente il suo nono titolo di campione italiano. Vediamo il pilota di Messina che dà il 5 a tutti i ragazzi della sua scuola di motocross insieme al suo mentore Giuliano Pardi e nella seconda match si presenta con la tabella numero 1 celebrativa del titolo appena conquistato. Partenza della seconda match e Bertuccelli ha un vantaggio quasi umiliante nei confronti degli avversari. Già dopo la prima curva un esercizio di stile anche questa seconda match quella del numero 316 e vediamo effettivamente come danza come riesce a padroneggiare la sua Honda 450 guidando sempre in piedi cercando di far scorrere la moto proprio come bisogna fare quando si guida sulla sabbia. Lentini è di nuovo al secondo posto per il Reatino è la seconda posizione anche in campionato quindi un ottimo risultato per il pilota del 3MX team. Panarello di nuovo terzo con la Honda prima gara per lui con la Honda e subito un bel podio mentre di nuovo al quarto posto c'è Cavallaro mai di stacchi nei confronti del dominatore Bertuccelli sono imbarazzanti stavolta ancora più che nella prima match e stavolta infatti Bertuccelli raggiunge lentini e riesce a superarlo doppiando tutti i suoi avversari quindi per il pilota di Messina una dimostrazione di forza che lascia poco spazio ai commenti arriva la bandiera scacchi e la doppietta. Prima della super campione Giuliano Pardi può festeggiare con le maglie celebrative numero 1 dei suoi due campioni Del Coco e Bertuccelli. Due numeri 1 quindi in pista e proprio loro due Bertuccelli e Del Coco partono in testa alla Manche super campione grosso rischio qui per Bertuccelli doppio grosso rischio per Bertuccelli che sta cercando di fare il vuoto alle sue spalle lo insegue Antonio Mancuso e poi al terzo posto c'è Matteo Del Coco. La situazione in questa super campione per Bertuccelli è leggermente più complicata perché Mancuso e Del Coco sono due campioni del Super Mare Cross e sicuramente non ci stanno a farsi come dire umiliare come è successo nelle gare della MX1 agli altri malcapitati avversari di Bertuccelli. Mancuso però accusa la fatica non è più un pilota professionista e si lascia sfilare da Del Coco che si prende la seconda posizione palanca numero 119 è quarto e al quinto posto c'è Caspani col numero 517. Ancora una volta una bellissima fuga solitaria di Giovanni Bertuccelli vederlo guidare sulla sabbia è veramente una scuola di guida dal vivo. Il numero 1 o 316 pauroso come dicono i suoi fan taglia il traguardo per la vittoria anche nella super campione viene salutato con i fuochi d'artificio piazzati ovviamente dagli organizzatori del motoclub Taormina New e ecco il momento della grande festa di Giuliano Pardi e di tutti i suoi ragazzi Bertuccelli del Coco i giovani della scuola di Giovanni Bertuccelli lo striscione pauroso il pubblico di Giardini Naxos giunto in massa per festeggiare il suo amico prima ancora che idolo Giovanni Bertuccelli che sale di nuovo per l'ennesima volta sul gradino più alto del podio di una gara e di un campionato del Super Mario Cross con lui in MX1 sul podio ci sono Alessandro Lentini e Alessio Panarello secondo e terzo in campionato ed ecco la consegna della tabella di campione a Bertuccelli con Giuliano Pardi che sale sul podio insieme a lui per festeggiare maglia celebrativa numero 9 i 9 titoli italiani del pauroso Giovanni Bertuccelli a lui per festeggiare maglia